Benvenuti a una nuova puntata di Varese in Rosa, diamo il benvenuto alle nostre due ospiti di oggi, Sara Gorlini e Norma Mazzetto dello spazio Civico 3 di Gallarate, benvenute. Grazie. Uno spazio d'arte e di cultura nel cuore di Gallarate perché siete proprio nel centro pedonale della città, ma anche uno spazio dove si organizzano eventi per raccogliere fondi da destinare in beneficenza, quindi diciamo una duplice valenza quella che andate a svolgere in questo luogo. Partiamo proprio dalla storia perché ormai è qualche anno che esiste appunto Civico 3 a Gallarate e avete fatto molte cose anche in un'epoca pre-covid, vero Sara? Esatto, Civico 3 nasce nel 2015 dall'idea di mettere insieme quello che è il nostro lavoro da cui veniamo di provenienza educativa e sociale a quello che è cultura, eventi e promozione sociale. Quindi siamo partiti con un evento allora timido con dei nostri amici che ancora oggi ci seguono e sono soci della nostra associazione e in particolare Chico Colombo e Betty Colombo di cui sentirete nominare di nuovo perché quasi tutti gli anni facciamo degli eventi con loro. Un primo evento che è andato così bene che ci ha fatto davvero mantenere la voglia e il desiderio di continuare a proporre e nel corso degli anni da qualche evento annuale siamo arrivate a una programmazione quasi costante di iniziative a stampo appunto artistico-culturale e che avessero comunque un taglio basato sulla promozione della bellezza, della cultura sociale e della solidarietà naturalmente. Siamo arrivati in periodo Covid nel quale naturalmente ci siamo dovuti fermare ma ormai avevamo preso davvero piede e aderiamo proprio anche a delle forme di altri associazionismi di eventi culturali, di festival anche della filosofia di Gallarate e quindi insomma ci siamo fermati ma alla ripartenza siamo riusciti davvero ad avere un bel programma ed essere aspettati un po' dal territorio e dalle persone e quindi siamo pronti a ripartire insomma. Certo, Norma infatti parlavamo di Chico e Betti Colombo non a caso avete proprio riniziato questa nuova stagione post-Covid insieme a Chico Colombo con i suoi cuscini d'arte una bella esposizione che abbiamo visitato anche noi con le nostre telecamere e quindi insomma si è ripartiti proprio nel segno della cultura e del colore direi insieme a Chico. e ha portato molto bene direi perché abbiamo come diceva Sara un attimo cartellone sì Chico è un po' l'anima del civico è stato per noi un rapporto importantissimo sia lui che Betti e sì la mostra è andata molto bene, i cuscini d'arte sono andati molto bene e il cartellone prevede altri spazi espositivi di Chico perché appunto ha tanto 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 da dire e da dare e noi siamo ben lieti di ospitarlo al civico. Diciamo che ormai il civico è un po' la sua seconda casa. Direi proprio di sì, sì sì. Ma entriamo nei dettagli di quelli che saranno gli altri appuntamenti perché dicevamo con Chico Colombo avete aperto una lunga programmazione di altri eventi artistico-culturali. Abbiamo già avuto due eventi molto importanti una mostra tuttora in corso di un bravo architetto gallaratese Stefano Canziani che fa delle opere molto particolari dove utilizza diverse tecniche pittoriche, fotografiche e architettoniche e merita veramente di essere visto anche perché è un giovane di Gallarate e noi del civico siamo sempre molto desiderosi di lasciare spazio ai ragazzi, ai giovani. Abbiamo avuto anche un interessantissimo incontro con il professor Mendolicchio che ha parlato dei disturbi alimentari, un tema che a noi sta davvero molto a cuore e ci piace divulgare anche tematiche di questo tipo nelle quali noi siamo particolarmente sensibili. Dicevo che c'è ancora in corso la mostra di Canziani ma dall'11 al 24 dicembre, quindi a Natale, avremo ancora il nostro Chico Colombo insieme ad un altro artista, Vladimiro Masi che esporranno una mostra di quadri, di opere dal titolo Nature diverse e di questo non vi dico nulla perché bisogna proprio venire a vedere. All'interno della mostra di Chico Colombo e Vladimiro Masi avremo la presentazione di un libro particolare si intitola Anche Van Gogh mangiava le cozze vi leggo ricette palindrome di arte culinaria di Serena Colombo e Massimiliano Babila Cagel anche questa è un'opera particolare che è difficilmente raccontabile bisogna venire ad ascoltare gli autori ma meritano tanto ne vale veramente la pena Concludo invece poi con gennaio avremo ancora un'esposizione di Augusto Barbieri fotografo che farà mostre in mostra cioè le Polaroid le sue opere lui è un artista fotografo che utilizza le Polaroid e farà questa esposizione Concludo veramente a febbraio ospiteremo saremo ospiti e porteremo dei nostri contributi alla Filosofarti la rassegna filosofica di Gallarate che si intitola Eredità fare futuro e noi contribuiamo con una mostra fotografica di una fotografa baresina molto brava Sara Gorlini che è qui con noi che si intitola La cura e l'abbandono e all'interno di questa rassegna ci saranno delle letture sceniche di Betti Colombo sempre sul tema La cura e l'abbandono avremo una conferenza con degli architetti torinesi che ci parleranno di una requalificazione di un luogo abbandonato e di che cosa è diventato e poi avremo sempre con grazie al contributo di Chico Colombo la presenza di autori che ci parleranno di un progetto che si chiama Capsula Mondi con la coreografia di disegna matite di Chico Colombo è un progetto interessante Appunto Sara prima di tutto tu sarai protagonista in doppia veste di questi eventi proprio perché andrai anche a disporre le tue opere opere che sono strettamente legate all'ambito sociale dato che come dicevi tu prima lavori da anni in questo ambito e quindi insomma sei andata un po' a sposare due passioni differenti quella per l'ambito sociale e quella per la cultura e la fotografia vero, verissimo sì sì sarò in questa doppia veste quindi mantengo la prima perché faccio fatica a parlare della seconda lo fa benissimo Norma direi ti presento io sarà un'occasione interessante per mettere insieme appunto questa mia esperienza con una serie di personaggi che abbiamo invitato e che hanno accolto il nostro invito tutti i personaggi davvero da incontrare da Betti agli architetti a cui faceva Cenno Norma e una sottolineatura sul progetto Capsula Mondi che è un progetto assolutamente particolare perché sono due persone progettisti che stanno un po' facendo il giro del mondo perché stanno presentando una modalità diversa di affrontare il tema della morte e del come morire ma anche di come essere sepolti nel senso che il progetto parla proprio di cimiteri di cimiteri alternativi con un tema etico molto importante e anche ecologico mi viene da dire perché vanno a proporre dei cimiteri che sono dei parchi naturali e dei boschi e degli alberi quindi togliendo tutto quello che è il cemento e tutto quello che è l'industria che sta intorno al tema della sepoltura non aggiungo altro perché non è il mio tema però li abbiamo contattati loro hanno accettato questo invito e adesso ci stiamo un po' rapportando per capire che tipo di intervento possiamo fare la cosa bellissima e ancora nominiamo Chico è che lui ha incominciato a disegnare questo progetto e quindi ci saranno le illustrazioni di Chico a contorno e ci immaginiamo una mostra bellissima davvero molto stimolante è certo assolutamente che aprirà anche la mente a riflessioni particolari perché in questo caso non si parla solo di cultura insomma sì, vero è certo diciamo che uno dei valori aggiunti della vostra associazione è quello di essere tutte donne infatti non a caso siamo in uno spazio in rosa e possiamo proprio dire che le donne in questo caso fanno tutto perché avete fatto nascere questa realtà la state facendo crescere e appunto organizzate questi eventi culturali che ormai stanno diventando un po' degli appuntamenti fissi in città insomma quindi brave parliamo un po' di questa collaborazione in rosa sì, allora la cosa è nata quasi per caso nel senso che siamo un gruppo di donne siamo partite io e Norma e nel giro di pochi anni insomma amiche, socie che comunque girano intorno alle nostre esperienze appunto di provenienza sociale hanno iniziato a collaborare con noi quindi nessuna preclusione agli uomini però di fatto siamo sette donne al momento che stanno collaborando su questi progetti è un'esperienza molto bella perché siamo tutte socie, volontarie ognuno partecipa per quello che può per quello che riesce e quando se la sente e questa cosa funziona tanto non abbiamo alcun interesse personale tutto quello che facciamo tutte le attività, i fondi che vengono raccolti sono devoluti interamente a progetti educativi a favore dei ragazzi disabili questa cosa appunto funziona e ci dà tanta tanta soddisfazione e certo assolutamente e tra l'altro voi siete sempre aperte a nuovi progetti a nuove attività che possano proprio aiutarvi a raccogliere nuovi fondi da destinare appunto come dicevi tu alle persone che hanno maggiore difficoltà quindi magari possiamo lasciare i contatti per coloro che abbiano delle attività o dei progetti culturali che possano appunto trovare spazio all'interno di Civico 3 assolutamente allora Civico 3 ci potete trovare al numero di telefono 347 400 4054 potete scriverci una mail a 3 in numero civico3 chiocciola gmail.com potete comunque visitare il nostro sito e su quello trovate sempre tutti i nostri dati potete seguirci su Facebook e su Instagram volevo solo aggiungere un pezzettino che mi sembra importante che al Civico abbiamo uno spazio davvero bello è una galleria l'abbiamo resa bella in tutti questi anni ma dobbiamo ringraziare una socia che l'ha dato insomma per questo progetto quindi dobbiamo ringraziarla davvero tanto perché tutto è possibile grazie a questo spazio meraviglioso e certo che si chiama questa socia? questa socia si chiama Giuditta ed è la proprietaria del negozio dove abbiamo fatto la galleria certo ricordiamo appunto in che via si trova dato che abbiamo dato tutti i contatti ma non abbiamo detto appunto come venirvi fisicamente a trovare giusto Vicolo dell'Apretura numero 3 è in centro proprio dopo il Teatro delle Arti e siamo aperti durante le esposizioni ma ci si può sempre sentire telefonicamente darci appuntamento per incontrarci e per chiacchierare un'altra cosa importante è che per via del Covid gli ingressi sono contingentati quindi è bene per ogni evento prenotarsi certo io vi ringrazio molto per questa chiacchierata invito il nostro pubblico veramente a venirvi a trovare anche perché questo è uno spazio molto bello lo posso dire davvero perché vi sono venuta a trovare più volte e penso davvero che ne valga la pena soprattutto quando ci sono eventi come ad esempio quello di Chico dei Cuscini che rendono veramente questo spazio bellissimo e coloratissimo quindi in bocca al lupo a voi per tutti i vostri progetti speriamo di rivederci presto per parlare appunto delle vostre attività e grazie mille e grazie a te grazie a voi grazie mille grazie grazie ovviamente a voi da casa come sempre e alla prossima puntata di Varese e Rosa arrivederci grazie a tutti grazie a tutti